Buato e spavento nella notte esplode un altro banco, ma una banda di malviventi ha fatto saltare in aria lo sportello delle poste di via per Camaiore alla Cappella per poi scappare con circa 24.000 euro. La regione tira le orecchie a capannori sugli assi viari, l'assessore Baccelli, il nodo del comune al protocollo d'intesa è incomprensibile. Il ricordo delle vittime del covid, strage dovuta ai tagli nella sanità, presidi delle associazioni di fronte agli ospedali Versilia e Noa di Massa per commemorare gli operatori sanitari e chiedere nuove assunzioni. Il calcio, lucchese impegnata nella tana dei lupi rossoneri di scena nella trasferta di Gubbio. Il basket e l'irruggito delle leonesse, gara cruciale per il Gesam Lemura di scena domenica sul parquet del già retrocesso Brescia. Ben trovati con l'informazione del nostro telegiornale, dunque lo avete sentito, un forte boato nella notte avvertito dai residenti di via per Camaiore in località alla Cappella. È stato fatto esplodere un altro bancomat. Ancora di mira ai bancomat. Una banda di malviventi ha fatto saltare in aria lo sportello delle poste di via per Camaiore in località alla Cappella nel comune di Lucca per poi scappare con la cassaforte contenente circa 24 mila euro. Il forte boato, poco dopo la mezzanotte, ha svegliato bruscamente i residenti della zona che subito hanno dato l'allarme, ma all'arrivo della polizia i ladri erano già scappati. Secondo la ricostruzione degli agenti, i banditi, presumibilmente due, sarebbero fuggiti con una lancia Y grigia che è stata ritrovata poche ore dopo a Carignano. Il veicolo è stato sequestrato per essere esaminato dalla polizia scientifica. Per innescare l'esplosione, la banda avrebbe utilizzato la solita tecnica della saturazione del bancomat con il gas acetilene. Sono in corso le indagini per capire se il colpo alla Cappella sia collegato agli altri assalti ai bancomat che si sono verificati nelle ultime settimane a Lucca, l'ultimo a Maggiano e in diverse altre città della Toscana. Voltiamo decisamente pagina, torniamo ad occuparci della questione sempre più problematica degli assi viari. Vi abbiamo dato la notizia del Via Libera della Giunta Pardini al protocollo di intesa regionale per il tavolo degli enti sulla questione degli assi viari che si propone di apportare miglioria alla prima parte contestata del progetto. E proprio su questa firma, ricorderete, si è spaccato ulteriormente il fronte tra il capoluogo e il comune di Capannori che si è detto non intenzionato a firmare il documento e ha interpellato la regione perché interceda chiedendo un confronto. Ebbene la regione nelle ultime ore ha ufficializzato la sua posizione. L'assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli con una conferenza stampa convocata nella sede del PD di Via Barbantini ha definito incomprensibile la scelta di Capannori mettendo di fatto alle strette la giunta dal momento che la scadenza per la firma del documento è fissata per il 20 marzo. L'assessore regionale replica anche sulle polemiche relative agli espropri Anas. Una preoccupazione, dice, ingiustificata. Ma sentiamo direttamente le parole dell'assessore ai trasporti e alle infrastrutture Stefano Baccelli in questa intervista. Abbiamo anche recepito la disponibilità da parte non solo della regione ma di RFI, di Anas, del commissario a costituire un gruppo di lavoro tecnico con gli enti locali per quelle modifiche al progetto che siano state evidenziate dalle osservazioni dei comuni. Avendo lavorato quindi per due anni a questo protocollo e avendolo fatto passo a passo insieme ai comuni di Lucca e di Capannori i precedenti attuali amministrazioni, trovo assolutamente controproducente e paradossale che il comune di Capannori non aderisca a un protocollo che va prima di tutto nel suo interesse e nell'interesse del suo territorio e nell'interesse della sua comunità. Si rischia che le cose rimangano così come sono, si rischia che nel progetto rimanga l'adeguamento di via Domenico Chelini e si rischia che non vengano fatte quelle modifiche puntuali che sono state richieste dai comuni di Lucca e di Capannori in cui il protocollo e quindi la sua sottoscrizione è proprio lo strumento idoneo perché prevede un gruppo di lavoro per accettare queste modifiche. Una questione di cui sentiremo parlare naturalmente ancora nei prossimi giorni ma intanto adesso torniamo ad occuparci dell'incendio alla STD Porcari l'azienda aveva commissionato gli esami sui campioni del tetto che hanno dato fortunatamente esito negativo e il risultato è stato confermato anche dagli esami di Arpat. L'incendio dunque non ha liberato in aria fibre di amianto perché non c'è amianto nel tetto. A rendere noti i risultati il sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari. È la giornata nazionale di ricordo delle vittime del Covid e ci sono stati alcuni presidi sia di fronte all'ospedale Versilia che al NOA di Massa con gli operatori sanitari in campo non solo per ricordare le vittime ma anche per dire no ai tagli alla sanità. A tre anni dal 18 marzo 2020 il Comitato Sanità Pubblica Versilia Massa Carrara insieme al Comitato Io non ci sto Firenze, Ogni giorno è il primo maggio Firenze, Cobas Pisa, Rete Tanta Salute a tutti Milano, Medicina Democratica, Riconquistiamo Tutto e Asso Confam si sono dati appuntamento di fronte all'ospedale Versilia e al NOA di Massa Carrara per effettuare un presidio per ricordare gli operatori e le operatrici sanitarie vittime del Covid-19. Perché? Perché oggi? Perché oggi la ricorrenza della morte di quasi 3.000 lavoratori che sono morti durante il Covid-19 noi aggiungiamo che sono morti dal lavoro e per il lavoro. Altro aspetto è l'aspetto del non dimenticare. Però vedete per noi non dimenticare non vuol dire soltanto ricordare i lavoratori che sono morti vuol dire anche cominciare a mettere al centro le ragioni perché di queste morti che sono legati a un processo di smantellamento della sanità pubblica. Proprio per sostenere questa iniziativa che si è svolta in molte città italiane sotto la parola d'ordine, uniti per non dimenticare, molti operatori si sono messi un fiocco azzurro sul camice o sulla giacca. Durante il presidio è stata inoltre sottolineata l'importanza di procedere al più presto a nuove assunzioni di personale al fine di garantire una sanità pubblica universale e solidale. Mentre a Pietrasanta si è svolta una manifestazione partecipata da centinaia di persone contro il taglio degli alberi in Viale Apoa. C'era per noi Luigi Casentini. Io sono un albero, gli alberi sostengono la vita, noi siamo l'ambiente in cui viviamo. Questi sono solo alcuni degli slogan con cui i movimenti ambientalisti versilesi hanno voluto dar voce alla marcia ambientalista organizzata dal Comitato Le Voci degli Alberi per protestare contro il progetto dell'amministrazione comunale di Pietrasanta che indicherebbe il progressivo taglio di numerosi esemplari di tigli di Viale Apoa. Erano oltre 200 gli aderenti che dal parcheggio della Coppa hanno percorso Viale Apoa fino a Marina in un lungo e colorato corteo a cui hanno preso parte ambientalisti da tutta la Versilia. Una protesta ci tengono a ribadire dal coordinamento ambientalista versilese che non ha niente a che fare con i tagli obbligati per le piante pericolose. No, senz'altro. Noi siamo convinti che una pianta quando è a fine vita vada tagliata per la sicurezza e l'incolumità delle persone. Ben diverso invece è intervenire per tempo per salvaguardare le piante evitando che le stesse possano ammalarsi. Quello che i comitati contestano al sindaco è la generale politica del verde insufficiente secondo il coordinamento nonostante i numeri forniti proprio dal comune degli alberi messi a dimora durante l'amministrazione Giovannetti. Sì, 400 piante in 5 anni, devo dire, ma di che parliamo? Sono 80 piante all'anno all'ordo di quelle che da una parte sono seccate e dall'altra che nel frattempo sono state tagliate. Sono nati 612 nuovi bambini. La regola dovrebbe essere una pianta per ogni bambino nato nei 5 anni. Dove sono le 600 piante? Cambiamo di nuovo argomento, torniamo a Lucca. Mancano più di due settimane alla Pasqua e le strutture alberghiere e i ristoranti si avviano già al tutto esaurito. A tre settimane dalla Pasqua il 70% delle strutture alberghiere in centro storico e nella Piana di Lucca risulta già prenotato. Numeri che fanno ben sperare i titolari di hotel e bed and breakfast che, complici anche le previsioni meteo con questo avvio di primavera anticipato, contano di registrare il sold out per l'imminente ponte festivo che di fatto darà il via alla stagione turistica. Abbiamo già una buona base di partenza perché un 70% delle strutture sono già a completo quindi il restante 30% presumiamo che lo faccia il tempo. Se il sole ci assiste prevediamo un sold out per l'intero periodo. Piano piano si sta allineando anche il seguito della stagione che quest'anno proprio dal 9 di aprile si decreta all'inizio e terminerà per i comics come tutti gli anni. Primi riscontri positivi anche per agriturismi e ristoranti che iniziano a ricevere contatti e richieste di prenotazione per il giorno di Pasqua e per i lunedì dell'Angelo. Le persone hanno iniziato a telefonare da una decina di giorni e soprattutto chiedono informazioni sul nostro menu perché per Pasqua avevano meno fisso e poi stanno valutando le prenotazioni. Qualcosa si sta muovendo nel senso che qualcuno ha già prenotato per la Pasqua. Torniamo ad occuparci di sanità, screening gratuiti in piazza Aldomoro a Capannori grazie ad una iniziativa dei Lions. In corsa per la solidarietà. A Capannori si è svolta la quinta edizione della Lions Running, la marcia a ritmo del cuore promossa da Lions Club Antiche Valli Lucchesi, Valle del Serchio, Pesce a Pietrasanta, Versilia Storica. La corsa valida per il 44esimo trofeo podistico lucchese. Il sabato si vince per il 46esimo trofeo delle tre province. È partita da piazza Aldomoro davanti alla sede comunale con percorsi da 3, 6 e 10 chilometri. Stiamo vedendo veramente una nutrita partecipazione da parte di tutti i gruppi sportivi, forse anche perché a Latere c'è l'evento delle visite in piazza. Ringraziamo il comune di Capannori, la misericordia di Santa Gemma, la misericordia di Monte Carlo, il DRK Sport che ci ha prestato i loro volontari da mettere sul percorso e tutti quelli che hanno partecipato alla realizzazione dell'evento. Un piacere ospitare la partenza del Lions Running da piazza Aldomoro a Capannori con tre percorsi che si snodano lungo il territorio. Una bella partecipazione. A ritorno in piazza Aldomoro sono stati consegnati premi ai gruppi podistici con il maggior numero di partecipanti. L'iniziativa è stata un'occasione per effettuare visite sanitarie gratuite grazie ad un punto salute Lions allestito nella piazza del comune. Il Lions Club Antica Valle Lucchesi, Pescia e Mediavalle anche oggi come durante tutto il mese e nei mesi prossimi effettuano visite mediche gratuite con i loro medici, con i medici anche non Lions degli ospedali della nostra zona sul territorio della provincia di Lucca. Torniamo sulla vicenda delle iniziative organizzate per la festa del papà all'asilo Florinda di Viareggio dopo un volantinaggio di forza nuova il PD annuncia un'interrogazione al ministro. Di nuovo Luigi Casentini. Alla vicenda dell'asilo della Migliarina e dei laboratori per la festa del papà prima annullati dalla dirigente per accogliere le richieste delle famiglie in cui la figura paterna non è presente per poi essere ripristinati ma in veste differente si è aggiunto un ulteriore episodio in cui la politica è entrata a gamba tesa. Alcuni militanti del movimento di estrema destra forza nuova infatti nella mattinata di venerdì hanno organizzato un presidio ed un volantinaggio all'isterno della struttura accusando la dirigente di aver voluto cancellare la ricorrenza. Un episodio che il Partito Democratico ha immediatamente denunciato come intimidatorio nei confronti della dirigente scolastica e di cui hanno chiesto alla prefettura lucchese le eventuali autorizzazioni concesse a forza nuova per il volantinaggio. Denuncia che è salita di livello quando i parlamentari democratici Emiliano Fossi e Marco Furfaro hanno annunciato un'interrogazione al ministro dell'interno su quanto avvenuto di fronte a Florinda. I neofascisti sono liberi di preferire quella che ritengono la famiglia tradizionale ma non possono intimidire e impaurire bambini e docenti di un asilo con le loro azioni e il loro slogan, hanno dichiarato i parlamentari. Per questo chiediamo al ministro dell'interno di fare chiarezza. Quel presidio era autorizzato? Prefettura e Questura erano a conoscenza che esponenti politici di estrema destra avrebbero organizzato una manifestazione dai toni violenti davanti alla scuola? La vicenda dunque è destinata a far discutere ancora, perlomeno sui tavoli della politica. Mentre a Castelnuovo di Garfagnana la Lega ha avviato una raccolta firme contro le disposizioni europee per l'adeguamento energetico. Come già avviene in altre parti d'Italia, gli esponenti della Lega in occasione del tesseramento 2023 hanno intrapreso anche una raccolta firme contro le direttive europee che toccano direttamente gli italiani e non solo, ovvero l'obbligo di adeguamento energetico delle abitazioni e lo stop ai motori a benzina e diesel. In questo caso i componenti della Lega hanno allestito un gazebo ai piedi della rocca riostesca a Castelnuovo Garfagnana con la presenza anche dell'onorevole Elisa Montemagni. Noi abbiamo visto come in queste settimane, in questi mesi la comunità europea si è prodigata molto sul green. Il tema però è che non ci possono venire ad imporre qualcosa che danneggerebbe fortemente il tessuto sociale ai nostri cittadini. Si è parlato dell'auto elettrica che per fortuna, grazie anche a Matteo Salvini, ha subito uno stop ma dobbiamo totalmente cancellare quella norma che arriva dall'Europa. E ora si parla di case green, ma noi non possiamo mica andare a dire col tessuto che abbiamo noi, con la casa, che in Italia è un valore, è qualcosa per cui i cittadini lavorano tutta la vita. Dover andare a dire oggi, imporre di dover efficientare la casa diventa complesso. Certo, noi non siamo contro il green, ma ci dobbiamo arrivare in maniera graduale andando a bilanciare le esigenze dell'ambiente con le esigenze dei nostri cittadini. Altrimenti potrebbe diventare una cosa estremamente pericolosa e non vogliamo assolutamente penalizzare chi ha lavorato tutta la vita. Torniamo a Lucca per un'iniziativa di sistema ambiente per la quale le strade del centro storico dovrebbero diventare più pulite. Si chiama Triciclo e del nuovo mezzo raccogli tutto che sta per entrare in funzione nel centro storico di Lucca. Il nuovo carrettino per la pulizia della città presentato dall'assessora all'ambiente Cristina Consani e dalla presidente di sistema ambiente Sandra Bianchi permette di arrivare anche nei punti più stretti del centro laddove il porter, il mezzo motorizzato più piccolo al momento a disposizione dell'azienda non riesce ad entrare. Il Triciclo, prodotto dall'azienda ecologica Soluzione Ambiente di Reggio Emilia entrerà in servizio dal primo aprile. È un modo anche questo per ampliare la Lucca Pulita, questa campagna Lucca Pulita appunto, dove vogliamo sensibilizzare sempre di più anche il cittadino perché dove è bello e dove è pulito c'è sempre più cure e più attenzione da parte di tutti. Quindi speriamo con questa iniziativa di ottenere anche questo risultato. Siamo arrivati all'appuntamento settimanale con la rubrica del Vescovo con gli occhi di Paolo. Cari amici e cari amiche, buonasera. È partita in questi giorni la campagna Fidarsi è meglio. Forse avete già visto queste locandine nelle sedi comunali, nelle parrocchie o in altre località del nostro territorio. La campagna è promossa dalla Fondazione Casa. In cosa consiste? Consiste nella proposta a chiunque abbia un appartamento sfitto nel renderlo disponibile attraverso la mediazione di Fondazione Casa, la quale Fondazione assicura un minimo di lavori di adeguamento, assicura delle garanzie circa il pagamento dell'affitto e il rilascio dell'immobile. Insomma, fa in modo di rendere più semplice la locazione e al tempo stesso viene incontro alla necessità di tante persone e di tante famiglie che fanno fatica a riperire un alloggio, anche qui per diversi motivi. Siccome ci sono tanti immobili vuoti nei nostri territori, mi sembra davvero una bella cosa che richiede di fidarsi. Ma la gente che richiede fiducia, i comuni, la diocesi, la Fondazione Casa, è gente seria. Allora possiamo fidarci davvero. Perché fidarsi è meglio. Cioè se ci fidiamo, facciamo delle cose buone insieme. Se ci fidiamo, rendiamo migliore la nostra società. Se ci fidiamo, risolviamo dei problemi che altrimenti diventano insormontabili. Allora fidiamoci, fidarsi è meglio e buona domenica a tutti. Noi ci fermiamo qui. È tutto per questa prima parte del telegiornale. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Poi l'informazione prosegue con la pagina sportiva. Grazie per la visione.